Doppio giubileo per i Domenicani di Firenze a Santa Maria Novella, 800 anni dalla morte del fondatore a Bologna nel 1221 e 800 anni dalla presenza dei frati predicatori nel capoluogo toscano. Nel suggestivo contesto della celebre chiesa ricca di opere d'arte e di storia, l'arcivescovo ha tenuto una meditazione sulla parola di Dio e i giovani, reperibile e integrale sui canali social dei frati Domenicani e dell'opera Santa Maria Novella. Un dialogo con i giovani presenti che con le loro domande hanno ampliato la riflessione del Cardinale Zuppi, punto di partenza la parola di Dio che aiuta a leggere i segni dei tempi per capire la storia e gli interventi divini. Nei primi secoli San Domenico non viene mai raffigurato per esempio con il rosario in mano, anche perché non è lui tra virgolette l'inventore del rosario, ma sempre con il Vangelo e tutto nasce da lì. San Domenico è sapiente e dotto perché è piccolo, è davvero piccolo, è umile. Guardate un esempio, in genere si conosce più i Domenicani di San Domenico, cioè San Domenico è noto per i Domenicani, capito? Mentre Francesco se vogliamo esattamente il contrario, no? È grande e dotto perché piccolo, perché umile. A 800 anni da quando San Domenico, padre dell'Ordine dei Predicatori, inviò 12 frate a Firenze per fondarvi una comunità, il Giubileo di Santa Maria Novella è stato aperto il 25 marzo scorso con la presenza dell'Arcivescovo di Perugia, Città della Pieve e Presidente della Conferenza Episcopale Italiana, il Cardinal Gualtiero Bassetti.